Musica Arrestato un ventenne per spaccio di droga ad erice Incidente su lungomare a Marsala Muore il gestore di una tabaccheria Nessun aumento delle tariffe dell'acqua Sono solo notizie fuorvianti a rassicurare l'assessore regionale all'agricoltura Maria Asaro ha festeggiato i suoi 100 anni a Mazzara Nuova edizione del TG8 Informazione Buon inizio settimana a tutti voi telespettatori dal canale 117 del Digitale Terrestre Apriamo il notiziario con la cronaca A Deric è stato arrestato un ventenne per spaccio di stupefacenti L'irruzione dei carabinieri di Trapani nel bunker della droga Un immobile popolare occupato abusivamente Culminato nell'arresto di due presunti spacciatori Si è arricchito di un nuovo capitolo I militari dell'arma infatti hanno eseguito un altro arresto Si tratta di un giovane di 20 anni Che è stato sorpreso all'interno dell'abitazione Che era stata sequestrata per essere riconsegnata allo IACP I carabinieri che si erano recati nello stabile Hanno notato che il portone d'ingresso dell'appartamento era socchiuso E che all'interno vi era un giovane che non avrebbe avuto titolo per accedervi Data la situazione anomala che si era verificata I carabinieri hanno nuovamente perquisito l'appartamento Rinvenendo sul tavolo della cucina due contenitori in plastica Contenenti rispettivamente 13 grammi di cocaina e 3 grammi di crack Un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento delle dosi Mentre il giovane era in possesso della somma contante di 770 euro circa Il ventenne ora è ai domiciliari E proseguono i controlli dei carabinieri forestali A contrasto degli LICT relativi alla gestione dei rifiuti I militari hanno passato a setaccio vari automezzi Impiegati in diversi cantieri dell'isola Uno dei quali conduceva nei pressi di un terreno agricolo Utilizzato come deposito di materiali di varia natura Di proprietà di un imprenditore edile Le indagini degli uomini dell'arma Consentivano di accertare che il proprietario dell'area Aveva trasportato circa 300 quintali di rocce da scavo E parti di tubazione e fibrocemento Ammassandoli in un sito non autorizzato In assenza di formulari identificativi rifiuti E iscrizione all'albo nazionale gestori ambientali Veniva quindi denunciato il titolare dell'impresa edile Per la gestione illecita dei rifiuti speciali Relativa alle rocce da scavo prodotte in fase di cantiere E stoccate in un sito non autorizzato In violazione del testo unico ambientale E un 39enne stato arrestato ad Alcamo In esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile Della compagnia di Alcamo in esecuzione Di un'ordinanza applicativa di custodia cautelare in carcere Emessa dal GIP del Tribunale di Trapani Su richiesta della locale procura Hanno tratto in arresto un 39enne alcamese Già gravato da precedenti per reati contro la persona e il patrimonio Per l'ipotesi di reato di estorsione aggravata in concorso L'ordinanza è scaturita a conclusione di una delicata attività investigativa Avviata in relazione ad un presunto caso di estorsione Di cui l'arrestato si sarebbe reso autore insieme al proprio figlio Appena maggiorenne nello scorso mese di aprile In particolare, secondo quanto ricostruito dai militari dell'arma L'uomo si sarebbe recato presso un cantiere edile armato Di un palanchino con cui avrebbe minacciato gli operai presenti Al fine di farsi consegnare del materiale ferroso Che a suo dire gli stessi avevano promesso di dargli Nella circostanza uno dei presenti Intimorito dall'atteggiamento aggressivo dell'arrestato Sarebbe stato indotto a consegnargli una somma di denaro In luogo del materiale ferroso Di cui in quel momento non aveva disponibilità L'autorità giudiziaria, concordando con gli esiti delle indagini Coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trapani Ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico dell'uomo Sul conto del quale i carabinieri avevano raccolto gravi indizi di reità In merito all'ipotesi di reato di estorsione aggravata in concorso È obbligo rilevare che l'odierno indagato e destinatario della misura restrittiva È allo Stato solamente indiziato di delitto pur gravemente E che la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente Solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudicato In ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza E come abbiamo detto nei titoli ancora sangue sulle strade della provincia di Trapani A perdere la vita un uomo di 62 anni gestore di una tabaccheria sul lungomare di Marsala Incidente stradale sul lungomare di Marsala Un uomo Gianfranco Marino di 62 anni è morto dopo uno scontro fra il suo scooter e un'autovettura Secondo una prima ricostruzione la vettura a un appunto precedeva lo scooter I rilievi effettuati dalla squadra infortunistica della Polizia Municipale Coordinata dall'ispettore capo Tommaso Trapani Avrebbero accertato infatti che i due mezzi procedevano nella stessa direzione Ossia verso Petrosino Si tratta dello scooterone con in sella Gianfranco Marino E di una Fiat Punto Celeste condotta da un giovane di 25 anni L'incidente si è verificato sabato pomeriggio nel lungomare Vincenzo Florio Ma Gianfranco Marino è deceduto nella notte in ospedale Le sue condizioni sono apparse subito gravi ai sanitari del 118 Ed è stato trasferito al pronto soccorso di Marsala Le indagini sullo scontro sono state condotte dagli agenti della Polizia Municipale Marino gestiva una rivendita di tabacchi in via degli atleti I funerali si terranno oggi pomeriggio alle 17 nella chiesa di San Francesco di Paola In corso Calatafimi a Marsala E rimaniamo a Marsala dove un carabiniere convince ad esistere un ventenne Dal proposito di volersi suicidare Nella giornata di sabato i carabinieri della compagnia di Marsala Sono stati chiamati ad intervenire con estrema rapidità Perché un giovane marsalese minacciava di buttarsi dal terrazzo L'allarme è scattato intorno alle 18.30 su segnalazione di una passante La quale ha chiamato il numero unico per le emergenze Chiedendo aiuto in quanto un ragazzo voleva buttarsi dal terrazzo Per competenza territoriale è intervenuta una volante della Polizia di Stato Che ha iniziato un'attività di intermediazione Al fine di fare desistere il giovane dalla volontà suicidaria manifestata Nel tentativo dei poliziotti di portarlo alla ragione Il giovane ha manifestato la volontà di parlare con un militare dell'arma Lui conosciuto effettivo alla sezione radiomobile di Marsala In quanto persona di sua fiducia E' stato così contattato tempestivamente il carabiniere In quel momento libero dal servizio Il quale ha presa la notizia Si è precipitato presso l'edificio interessato E negoziando con l'interessato Lo ha convinto con non poche difficoltà A scendere dal terrazzo E sono 16 nuovi assistenti e agenti Assegnati al Dipartimento di Polizia di Stato Nei giorni scorsi alla questura di Trapani 12 dei nuovi arrivati giungono da altre sedi Nelle quali hanno maturato Pluriannali e diversificate esperienze professionali Mentre altri 4 sono di prima nomine e provengono dalla scuola di polizia Dove hanno frequentato il corso di formazione I nuovi operatori che sono stati assegnati al settore del controllo Sono stati accolti dal questore Il dottore Salvatore Larosa Che ha fatto loro gli auguri Per l'impegnativo lavoro che li attende Al servizio della collettività Nei giorni scorsi il questore di Trapani Il dottore Salvatore Larosa Ha disposto dei movimenti riguardanti La dirigenza di alcuni uffici della questura In particolare il vice questore Dottoressa Caterina Bertuglia Ha assunto l'incarico di dirigente Della divisione di polizia amministrativa e sociale della questura In sostituzione del primo dirigente Dottoressa Mariliana Tumino Trasferita alla questura di Palermo Al vice dirigente del commissariato di pubblica sicurezza di Marsala Commissario Capo Dottore Gabriele Cannizzo È stato assegnato l'incarico di dirigente Dell'ufficio immigrazione della questura In sostituzione del vice questore Giovanni Modica Inviato in missione all'estero A Marsala è stata assegnata al termine del corso di formazione Il commissario dottoressa Noemi Gennaro Che ha assunto l'incarico di vice dirigente Ai funzionari vanno gli auguri del questore Dei colleghi per le nuove sfide professionali Che si accingono ad intraprendere Spostiamoci ancora nella Marsala Dove per lo straordinario lavoro fatto Nella lotta alla mafia E per l'esempio dato È stata conferita la cittadinanza onoraria post-mortem Alla giudice Giovanni Falcone All'unanimità da parte del Consiglio Comunale È stata consegnata la cittadinanza Alla sorella del magistrato Assassinato ricordiamolo nel corso della strage di Capaci Del 23 maggio 1992 Alla presenza del procuratore Roberto Piscitello Del sindaco Massimo Grillo Del presidente del Tribunale di Trapani Alessandra Camassa E dei consiglieri comunali Cambio di vertice Nella compagnia di navigazione Liberty Line Leader nel settore dei collegamenti veloci via mare Esce di scena Gianluca Morace Fratello di Ettore A lui subentra Nunzio Formica Nessun aumento delle tariffe dell'acqua Sono solo notizie fuorvianti A rassicurare l'assessore regionale all'agricoltura Non ci sarà alcun aumento delle tariffe dell'acqua Sia per il ruolo istituzionale che per quello irriguo Così l'assessore all'agricoltura Sviluppo rurale e pesca mediterranea Toniscilla Replica alle notizie circolate Nelle ultime ore sul presunto aumento delle tariffe dell'acqua In finanziaria c'erano già le somme appostate Per una esigenza tecnico-contabile Rispetto all'accordo Stato-Regioni Bisognava aspettare che lo Stato liberasse le somme Chiarisce Questo è già avvenuto E nei prossimi giorni ci sarà la variazione di bilancio Che dovrà essere approvata dall'Assemblea regionale A quel punto i consorsi di bonifica Disporranno delle risorse necessarie Preciso continua il rappresentante della Giunta regionale Che ad oggi gli agricoltori stanno pagando le stesse tariffe dello scorso anno Il sostegno del governo musumeci nei confronti dell'agricoltura è tangibile e concreto Tant'è che abbiamo già deliberato un'ulteriore erogazione di 60 milioni di euro Con la rimodulazione di fondi PSC Destinati per 25 milioni agli agricoltori Per fare fronte proprio ai pagamenti dei canoni irrigui 2022 Per 25 milioni ai produttori di latte o vino e bovino E per 10 milioni ai pescatori Spostiamoci a Campobello di Mazzara Dove il sindaco Giuseppe Castiglione L'assessore comunale all'urbanistica Stefano Tramonte Rendono noto che titolari di stanze di condone edilizio già presentate Hanno la possibilità di definire le stesse pratiche Mediante la presentazione di una perizia giurata Da parte di un tecnico abilitato La circolare dell'assessorato regionale territorio e ambiente Ha infatti chiarito le modalità applicative della norma Esplicitando le procedure per la definizione delle pratiche In tempi rapidi connetevoli effetti positivi Sia per il richiedente che per il comune Da Campobello ci spostiamo a Mazzara Dove il Dipartimento per lo Sport e la Presidenza del Consiglio dei Ministri Ha ammesso un progetto di riqualificazione del Palazzetto dello Sport E per la realizzazione di un nuovo playground da realizzarsi nel quartiere Trasmazzaro Per un investimento complessivo di 2 milioni e 400 mila euro Da finanziare con i fondi delle PNRR Ad annunciarlo il sindaco della città Salvatore Quinci In particolare il finanziamento di 2 milioni e 400 mila euro Riguarda le PNRR Sport ed Inclusione 900 mila verranno destinati alla ristrutturazione del Palazzetto dello Sport di Contrada a Facciata Mentre 1 milione e 500 mila euro verranno destinati per la realizzazione delle playground sportive al Trasmazzaro L'ASP di Trapani ha emanato un bando per 41 posti tra medici, farmacisti e analisti Bando dell'ASP di Trapani per la copertura di 41 posti fra medici, farmacisti e analisti Nel dettaglio l'azienda sanitaria mette a disposizione 35 posti per medici con varie specializzazioni 5 per farmacisti e 1 per dirigente analista Gli incarichi per dirigenti medici sono così suddivisi 11 in neonatologia, 2 in nefrologia, 6 in oncologia medica, 8 posti in medicina legale e altrettanti in patologia clinica Altri 5 posti sono disponibili per dirigente farmacista e 1 per dirigente analista In questo caso servirà una laurea in matematica, ingegneria informatica o economia e commercio Le domande vanno presentate entro il 24 luglio per via telematica sul sito asptrapani.selezionieconcorsi.it Allo stesso indirizzo è possibile partecipare all'avviso pubblico straordinario per soli titoli per la formulazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato di dirigente medico in varie discipline La possibilità di presentare domande scade il 15 e il 16 luglio dipende dalla specializzazione per cui si concorre E' un comunicato che ci giunge dalla Confederazione Italiana Federazione Autonomie dove il presidente e il dottor Ingargiola comunica di mettere a disposizione delle imprese e dei professionisti del territorio Una task force per la gestione delle richieste in merito alle opportunità e leggevolazioni offerte dalle zone economiche speciali La nostra Confederazione, afferma Ingargiola, attraverso anche l'Unione Nazionale dei Professionisti è quotidianamente impegnata in sinergia con le istituzioni per la valorizzazione dell'imprenditoria siciliana Le ZES forniscono un importante volano per lo sviluppo del territorio La criminalità organizzata oggi non ha più bisogno di sparare ha acquisito capacità di muoversi sotto traccia senza suscitare clamore o allarme In Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, al settentrione d'Italia insomma le mafie si presentano con il volto rassicurante di figure professionali in grado di offrire servizi e soluzioni a basso costo a partire dallo smaltimento dei rifiuti E questa è la chiave di lettura del libro Complice e colpevoli Come il Nord ha aperto le porte all'Andrangheta che Nicola Gratteri presenta a Marsala mercoledì prossimo al complesso San Pietro Il Gratteri, procuratore della Repubblica di Catanzaro uno dei magistrati più impegnati nella lotta all'Andrangheta e con Antonio Nicaso, storico delle organizzazioni criminali ha scritto numerosi libri Dialogherà con Gratteri l'ex magistrato in pensione Dino Petralia Una fotografia per celebrare i 40 anni dell'82esimo centro Combat Search and Rescue Nella giornata di mercoledì 6 luglio si sono svolte le celebrazioni in occasione del 40esimo anniversario della costituzione dell'82esimo centro XAR Combat Search and Rescue presso la base aerea di Trapani Birgi All'evento hanno preso parte numerose autorità civili, religiose e militari oltre a una corale partecipazione di ospiti e del personale in congedo che con dedizione, competenza, passione e professionalità ha servito l'aeronautica militare e il paese sotto la raldica dell'82esimo centro XAR Nel discorso di apertura del 40esimo anniversario il tenente colonnello pilota Angelo Mosca, comandante dell'82esimo centro XAR ha ringraziato le autorità presenti e tutti gli ospiti per la partecipazione alla giornata di festa che è servita per ripercorrere la storia e le geste dell'82esimo in questi 40 anni sottolineando infine l'onore di essere al comando di questo glorioso e storico reparto La giornata si è articolata seguendo un ricco programma di eventi che hanno avuto inizio con la scopertura del monumento a ricordo dell'HH3F Pelican storico elicottero che è stato in servizio presso l'82esimo della sua costituzione fino al 2013, anno della sua dismissione La manifestazione è proseguita con una mostra statica di mezzi e materiali che hanno ripercorso i 40 anni del SAR, diversi intermezzi musicali e il ricordo di alcuni episodi che hanno segnato la vita dell'82esimo Momento centrale dell'evento e che ha suscitato grandi emozioni è stata la dimostrazione in volo seguita con l'elicottero HH-13-9B special horror quarantesimo anniversario che ha prima salutato gli estanti con il tradizionale inchino e poi ha mostrato le capacità operative dell'aeromobile fra cui una simulazione di un recupero tramite berricello Alla fine del volo l'elicottero è stato parcheggiato in mostra statica a beneficio degli ospiti sul piazzale SAR L'82esimo centro XAR è uno dei reparti del quindicesimo stormo dell'aeronautica militare che garantisce 24 ore su 24, 365 giorni l'anno senza soluzione di continuità la ricerca e il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà concorrendo inoltre ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna il trasporto sanitario d'urgenza di pazienti in imminente pericolo di vita e il soccorso di traumatizzati gravi operando anche in condizioni meteorologiche estreme Dalla sua costituzione ad oggi gli equipaggi del quindicesimo stormo hanno salvato più di 7.500 persone in pericolo di vita E la redazione di Teleotto si unisce al messaggio di auguri del presidente del Consiglio Vito Gancitano a Maria Asaro che nei giorni scorsi ha festeggiato i suoi 100 anni di vita attorniato dall'affetto dei suoi cari la signora Asaro, la donna Arzilla ovviamente ha festeggiato il centenario Tanti auguri alla signora E continuiamo con lo sport ai campionati italiani giovanili di scacchi che si sono svolti a Terrasini lo scacco club Mazzara con le sue giovanissime ragazze Elisa Cammarata e Bianca Pipitone ottiene una buona prestazione Bene 819 i partecipanti che hanno dato vita ai tornei suddivisi per età Buona la prova di Elisa Cammarata giunta 24esime Bianca Pipitone che nel torneo Under 14 raggiunge il nono posto e va sul podio Soddisfazione per il presidente Agata Di Stefano che nella speciale classifica per società vede lo scacco club al 53esimo posto su 150 iscritti E ancora il 9 luglio si è svolta la Palamoncada di Portempedole la Coppa Sicilia Fisdir di Pallacanestro erano presenti sette formazioni provenienti dalle varie province siciliane i ragazzi della SD Paralimpica Mimì Rodolico sono riusciti grazie al gioco espresso ad aggiudicarsi la Coppa dimostrando qualità tecniche e tattiche il presidente Gaspare Maielli nonché il tecnico dell'esso d'alizio ha espresso la propria soddisfazione per questo ulteriore obiettivo raggiunto dai ragazzi Ed era questa l'ultima notizia del nostro DG io vi lascio con la nostra programmazione e vi do appuntamento alla prossima edizione e vi do appuntamento alla prossima